Un rinnovamento che riguarda tutti gli ambiti, da quello della mobilità a quello della sicurezza, all'ambito soprattutto del lavoro e dell'impresa, perché questo è un punto su cui battiamo in particolare, perché rilanciare l'impresa, che è legata a filo doppio con il lavoro, significa rilanciare il lavoro e significa sostanzialmente uscire da una crisi economica che da fin troppo tempo attanaglia Perugia. Ora, oltre a questi, abbiamo molte idee anche in relazione a creare una città che definiamo città a misura di bambino. Cosa significa città a misura di bambino? Significa una città più vivibile, più sicura e più attenta alle esigenze di tutti. Questo è il nostro progetto per Perugia nel prossimo quinquennio. Ora mi accingo a presentare tutti i punti programmatici che ci siamo dati nei prossimi giorni e a presentare la squadra del Movimento, che è una squadra composta da persone, in parte della società civile, in parte dei vecchi attivisti storici del Movimento.